questo posto come è carino ma tesoro ma come ti sei vestita ma sei troppo questo è proprio un posticino carino allora questi pesci come sono magri vogliamo venire sempre di 100.000 avete a comprare del planto senta buon giorno prego cosa costa questo ambanada cosa costa costa guarda che qua non facciamo mica la vita questo pescetto che sono 16 anni che sta qui sedire alle pallette da solo che non riescono a vincere una cosa secondo me da una stima un miliardo un miliardo e porto a casa tutto guarda che un miliardo hai mal dire il pescetto guarda io vado a fare un giretto io vado a fare un giretto voi pensate salve arrivederci